Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo ancora dalla 1 dove a causa del traffico congestionato si registrano 8 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna ma a causa di lavori 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. In direzione Roma invece rallentamenti a causa del traffico intenso tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino. Passiamo alla FIPILI dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigne in entrambe le direzioni e tra Ponte d'Este, Ponte d'Ovest e Ponsacco in direzione Livorno. Viabilità della città di Firenze a causa di uno scavo urgente sulla rete del gas e restringimento di carreggiate e rallentamenti in via Bolognese all'altezza del civico 116. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!